e i nostri fuori onda se potessero parlare tra l'altro questo genio di Alessio Morigi ieri mi raccontava una sua idea di format che si chiamerebbe proprio fuori onda il programma che inizia quando finisce ecco l'idea è geniale sicuramente è talmente geniale che secondo me che ci vuole un genio ci vuole un genio in regia un genio in conduzione un ospite genio che sta al gioco quindi è irrealizzabile per questo ve ne parliamo qui così gliel'ho bruciata sicuramente lui sarà il prossimo papa viene fatto per bruciare così non avrà più il coraggio un candidato in meno di sottopor se tu dimmi se è una trasmissione si può chiamare come la vuole chiamare? fuori onda fuori onda la trasmissione che inizia quando finisce ecco voi pensate che inizierebbe così così me l'ha descritto allora abbiamo chiuso qui la puntata di Nautilus grazie per averci seguito alla prossima mi raccomando seguiteci ok grazie le diamo a grazie slacciamo e cominciamo a parlare ovviamente in maniera politicamente scorretta allora andiamo avanti andiamo avanti invece con Nautilus siamo in onda nei canoni della tv standard poi ci daremo alla sperimentazione cerchiamo di fare bene quello che possiamo fare torna la tecnologia ad essere protagonista prima con Luigi Crespi ovviamente abbiamo raccontato il mondo dei social Trump una discussione una conversazione molto interessante vi ricordo che questa puntata poi la troverete su Youtube sul nostro canale Youtube se non ce la chiudono visto quello che abbiamo detto sul nostro canale Youtube potrete ripercorrere tutte le interviste compresa questa che adesso che tocca il tema della tecnologia ma qui abbiamo una dimensione molto umana eh sì ma io prima Gianluca parlavo di storie e mi riferivo espressamente o comunque più direttamente a questa che stiamo per raccontarvi io direi la più bella storia a cavallo proprio tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 la più bella storia perché riguarda una nascita la più bella storia perché riguarda una nascita che si è fatta improvvisamente complicata ma che poi diciamo così è andato tutto a buon fine anche grazie alla tecnologia c'è anche un risvolto un po' amaro perché ad esserne dotati sono solo due regioni nel nostro paese Emilia Romagna e Piemonte e questo un po' lascia no? noi dopo faremo anche un appello perché adesso ascoltarete questa storia molto bella ce la racconta proprio la protagonista esatto Elisa Nava che noi ascolteremo nel servizio che segue tra l'altro immagini che ci sono state fornite li ringraziamo infinitamente dagli infermieri del 118 di Bologna che sono protagonisti assoluti di questa bella storia e dell'emergenza Covid esatto anche questo assolutamente in prima linea noi vediamo il riassunto la sintesi proprio da parte della protagonista Elisa Nava che poi ritroviamo in collegamento con noi nella notte tra l'1 e il 2 di gennaio torno a circa l'una e mezza più o meno di notte una mia collega Emanuela ha ricevuto la telefonata di un papà che chiedeva un'informazione per sapere se poteva portare sua moglie in ostetricia perché secondo lui era giunto quasi il momento di far nascere il bimbo e la mia collega ha capito da subito che in realtà sarebbe stato meglio rimanere a casa perché probabilmente si trattava di un parto imminente ha registrato la chiamata sono stati inviati i mezzi sia l'automedica che l'ambulanza di San Giovanni in Versiceto e io ho deciso di richiamare il papà e di attivare la piattaforma Flagmi che è quella che ci consente di fare le videochiamate con gli utenti per poter avere una visione migliore di quello che sta succedendo molto più preciso e poter guidare le azioni degli utenti degli astanti quindi ho attivato la videochiamata e il papà da subito mi è apparso un pochettino ovviamente agitato come ci si poteva aspettare poi mi ha seguita in tutto quello che gli dicevo di fare è stato veramente molto bravo e sono stata in grado di dare delle informazioni semplici ma molto chiare che hanno permesso di far nascere Alex in pochi minuti e nel miglior modo possibile 12 minuti dall'inizio della chiamata questo è il tempo che ci ha messo Alex per venire al mondo sono stati 12 minuti molto intensi ma di cui mi ricorderò sempre che sono conclusi con un meraviglioso pianto del bimbo che è stato estremamente emozionante molto liberatorio sia per i genitori per il babbo soprattutto che anche per me è stata veramente una grande emozione e a quel punto il mio ruolo di assistenza era focalizzato sulla mamma sull'assisterla nei primi momenti di condividere con loro la loro gioia e poi all'arrivo dei mezzi si è conclusa la telefonata e leggere stamattina dei ringraziamenti sulla testata giornalistica da parte del babbo è stato per me molto molto gradito molto piacevole anche perché noi infermieri spesso svolgiamo questi compiti un po' più nel silenzio piuttosto che quindi è stato molto importante anche dal punto di vista professionale ricevere i ringraziamenti della famiglia ancora gli infermieri protagonisti li abbiamo conosciuti ovviamente nell'emergenza covid questa è una storia tra l'altro che segue ad un altro storia lieto fine perché questa applicazione anzi questa piattaforma medica che si chiama Flagmi è intervenuta anche nel caso di un bimbo di due anni che stava soffocando ed è stato salvato in diretta video grazie a questa piattaforma da un infermiere del 118 che ha aiutato i genitori in delicate manovre di rianimazione mentre a casa aggiungevano i soccorsi questa è invece la storia di un parto avvenuto in casa con l'infermiera che ha guidato il papà immaginatevi i papà che svengono di solito in sala parto pensate questo papà a casa che ha dovuto far partorire la moglie ma ha avuto la freddezza appunto di rivolgersi a questa piattaforma e di rivolgersi a questa infermiera che gli ha risposto e che abbiamo in collegamento con noi Elisa Nava buonasera buonasera a voi eccoci 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 abbiamo temuto per un momento no 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 ce l'abbiamo ce l'abbiamo il regista ci ha voluto fare un effetto Dario Argento sul collegamento cara Elisa allora una storia bellissima tra l'altro ha avuto tanto eco a livello mediatico nazionale è uscito sui maggiori siti ecco intanto ti aspettavi tutta questa cassa di risonanza rispetto evidentemente ad un evento che ha toccato il cuore no? no non me lo aspettavo sinceramente è stato ovviamente molto piacevole ma è stato soprattutto molto gratificante perché comunque il mio lavoro l'avevo fatto sapevo di averlo fatto nel miglior modo possibile mi ha fatto molto piacere che questa notizia veramente felice abbia avuto questa risonanza ecco certo assolutamente una prima curiosità che ti chiedo perché me lo sono chiesto avendo giustamente Gianluca annoverato il tuo caso ma anche il caso della disostruzione mi pare si dica così in termini tecnici ecco c'è un corso di formazione per voi operatori sanitari proprio per utilizzare questa piattaforma che nel funzionamento sembra molto semplice poi magari ovviamente nasconderà le sue complessità sì abbiamo avuto un corso di formazione circa un anno che l'abbiamo in uso questa applicazione questa piattaforma scusate abbiamo fatto un piccolo corso di formazione e tante tante prove ecco in realtà è molto semplice sia per noi che per gli utenti perché fondamentalmente noi inviamo un sms con all'interno un link sul quale cliccare e si apre autonomamente la finestra di conversazione con noi ah perfetto in basso sulla destra dello schermo c'è l'icona della telecamera basta cliccare e si avvia la videochiamata quindi si chiama per l'emergenza si specifica che tipo di emergenza è e voi immediatamente inviate questo messaggio ovviamente c'è c'è l'operatrice che ha più competenza se si tratta o su tutti tu puoi intervenire solo sugli aspetti delle partorienti o anche sulla disostruzione in un caso di soffocamento noi tutti abbiamo tutti gli stessi corso di formazione quindi voi siete pronti a intervenire su vari campi esattamente proprio perché lavorando nell'emergenza dobbiamo essere un po' preparati su tutto ecco Elisa un'altra cosa c'è bisogno di un certo tipo di sensibilità per capire che è il caso di utilizzare questa applicazione perché mi pare che nella tua intervista tu dici a un certo punto ho capito che era meglio non farlo uscire di casa quindi al di là di mille corsi di formazione resta a tuo modo di vedere quella componente non so istintiva dell'operatore che si rende conto che forse è meglio fare non quello che si fa di solito ovvero correre all'ospedale ma prendere la strada alternativa assolutamente sì e per fortuna esiste ancora perché questo rende la nostra professione particolare specifica questo è l'incontro con il papà questo che stiamo vedendo questo è il papà che ha fatto partorire la moglie la compagna il compagno va bene ma era agitato immagino all'inizio sì molto perché non si aspettava neanche lui che fosse una cosa così veloce poi in realtà si è tranquillizzato si è fatto guidare e questo ha permesso anche alla mamma di tranquillizzarsi che ovviamente non era pronta a partorire in casa certo soprattutto col marito che magari aveva rimproverato cinque minuti prima perché aveva messo in disordine la cucina secondo me il compagno si è guadagnato un'assicurazione sulla vita cento partite di calcetto cento partite di calcetto proprio senza problemi senza controllo guardate che bello questo bimbo guardate è meraviglioso tra l'altro Alex è meraviglioso sempre immagini del 118 che avete realizzato voi anche per sensibilizzare tutte le persone a quell'uso di questa piattaforma sì noi non la usiamo su tutte le chiamate su quelle più particolari su quelle che necessitano una guida certo abbiamo abbiamo delle istruzioni prearrivo codificate che noi diamo agli utenti e la piattaforma ci aiuta tantissimo nel vedere se quello che noi diciamo agli utenti viene applicato in maniera corretta come è successo nel caso della disostruzione del bimbo che l'ha fatto mio collega lui è stato in grado attraverso Flagmi di correggere il massaggio cardiaco che il papà stava facendo sul bambino e questo ovviamente per noi è fondamentale ci aiuta tanto prima davamo abbiamo comunque sempre le istruzioni avere il modo di poter poter vedere di come vengono messe in pratica ci aiuta tanto è una spinta in più importante e beh sì notevole dicevo in tutta questa storia dove ci sono tanti dati positivi da mettere poi in evidenza a mio modo di vedere c'è un un aspetto un po' più che lascia l'amaro in bocca ovvero tutta questa efficienza tutto questo sistema tutta questa tecnologia si riduce a livello di disponibilità all'Emilia Romagna e al Piemonte se non sbaglio ecco tu potresti dirci le motivazioni cioè l'Emilia Romagna si è mossa prima ha più fondi è una cosa costosa non lo so quali sono le motivazioni? probabilmente abbiamo aderito alla sperimentazione ah ecco perché come vi dicevo è da un anno che esiste questa piattaforma quindi i tempi non sono non sono tanti eh certo probabilmente dopo questi due eventi e questa ressonanza mediatica che hanno avuto altre ragioni si muoveranno in tal senso e lo speriamo ah questo è quello che dicevamo prima lo trasformiamo in un appello questo servizio perché abbiamo abbiamo dimostrato ovviamente non va a sopperire l'attività sanitaria pubblica no ci manca sono chiamate eccezionali non vorrei fosse una distorsione del tema che qualcuno se ne approfitta dice sai che c'è invece di mandarli all'ospedale noi gli mettiamo un infermiere in video e dice senti togli il postaciste da solo prendi il coltello da cucina e vai e togli tanto ormai il fai da te non è così è nelle emergenze vere quando non c'è il tempo materiale no giusto Elisa per il trasporto del paziente in ospedale e si deve si deve intervenire al più presto è molto interessante perché ci fa capire appunto come la tecnologia come questo intervento a distanza sia sia importante ma soprattutto complimenti alla vostra preparazione perché prima abbiamo parlato dell'agitazione del compagno di questa donna che è stata aiutata a partorire ma insomma anche per voi guidare una persona dal video dal telefonino non è o dal computer non è una cosa proprio semplicissima anche a livello mentale no? no non è semplice anche perché noi stiamo abituati poi anche a lavorare in ambulanza in automedica dove il paziente ce l'abbiamo davanti esatto quindi tutto quello che pensiamo di fare lo possiamo fare esatto invece dalla centrale dobbiamo guidare le azioni di qualcun altro fortunatamente un gruppo di lavori di colleghi ha elaborato queste istruzioni per arrivo di cui vi parlavo prima che ci permettono di dare informazioni veramente semplici uniformi perché tutti diamo le stesse informazioni e cerchiamo di farle soppire nel miglior modo possibile in modo da avere un outcome del paziente favorevole certo io Gianluca rischio di essere ripetitivo però vorrei mettere in evidenza no? perché a volte è ripetita cioè qualcosa ripetita Juventus esatto sì no mettere in evidenza la preparazione di questi operatori che fanno aiutano no? guidando a partorire una donna allo stesso tempo con la stessa preparazione alla disostruzione di un bambino allo stesso tempo attuano delle tecniche psicologiche per calmare poi la persona che deve operare perché ovviamente essere il tramite di una persona che è in uno stato d'ansia incredibile la responsabilità la responsabilità la responsabilità diceva Lisa perché un conto è sono io che agisco sul corpo del paziente e lì ce l'ho certo che ce l'ho la responsabilità però sono preparato so quello che devo fare e quindi un conto è guidare teleguidare le mani e le scelte che deve fare una persona su un parto ragazzi il parto è una cosa complicata ecco noi siamo abituati a vederla anche nei film il parto a casa no? perché un tempo si partoriva ma si fa così cioè si dice prendi la bacinella con l'acqua bollente giusto? si fa ancora così quasi quasi ecco però posso dire sei stata fortunata 12 minuti non è stata proprio una cosa lunga era in rampa di lancio il bambino effettivamente se fosse stato un travaglio più lungo ci sarebbe stato il tempo di portarlo in ospedale è certo è per quello che si è attuato questa manovra di emergenza per cui io che non sono un'ostetrica ma so le indicazioni generali per il parto precipitoso sono stata in grado di aiutare la mamma che ovviamente è stata la grande protagonista di cui non si parla poi no poi la mamma non ha fatto niente niente è stata lì poi ricordiamo che ovviamente alla fine Elisa alla fine del parto non è che tu hai salutato grazie arrivederci alla prossima ovviamente arrivava un'ambulanza a soccorrere le persone sono partite immediatamente quindi il tempo di percorrenza della strada sono arrivati due minuti dopo il parto certo 33 anni ha la nostra Elisa in collegamento una giovane infermiera che però veramente complimenti Elisa però si vede la tua sicurezza dal punto di vista professionale però mi piace molto il mio lavoro ti piace molto ma dopo hai avuto un momento d'emozione quando hai potuto scaricare l'adrenalina subito no la mattina quando sono smontato dal turno devo dire che non sono riuscito a dormire ma che bello mi spiace l'adrenalina però è bello contentissimo va bene siamo contenti secondo me il sorriso di Elisa ha aiutato in parte a tranquillizzare il papà e a far sì che tutto poi insomma andasse a buon fine fa questo effetto anche a noi che non stiamo partorendo tra l'altro io mi dissocio da questi da questi corteggiamenti a mezzo televisivo di Alessio però mi dissocio proprio sono considerazioni del tutto professionali sì sì assolutamente grazie 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 perché altrimenti Elisa la mettiamo pure nei guai cara Elisa comunque complimenti no sto scherzando ovviamente si scherza un po' rispetto a un fatto molto emozionante veramente noi facciamo un appello alle regioni scusate ma che aspettate io a volte non riesco a capire quando leggiamo immagina anche tu Elisa in Germania c'è questo modello prendiamo copia incolla e si porta in Italia questo è ancora più facile ce l'abbiamo ce l'abbiamo l'Emilia e un'altra regione qual è? il Piemonte che ci vuole a mettere su una piattaforma di questo tipo che non deve essere ovviamente è l'estrema razio di un'emergenza ma voi immaginate al telefonino di tutti i cittadini italiani un messaggio che vi dice da oggi in poi potete usare questa piattaforma con il link quando c'è un'emergenza abbiamo la popolazione più anziana d'Europa potremmo dire anche qui parte i pulsantini che si sono inventati e che vendono ma diamogli anche la possibilità di confrontarsi con qualcuno oppure quei casi che abbiamo raccontato un parto un bambino che sta per soffocare un infarto tante cose insomma possono essere magari aiutate a distanza mentre arriva l'ambulanza gestite a distanza coraggio non ci vuole non ci vuole nulla i corsi l'aggiornamento e la formazione poi prosegue immagino ogni volta che facciamo un servizio con Flagmi mandiamo un feedback ai colleghi vediamo ci sono poi incontri periodici e continuiamo sempre benissimo va bene grazie Elisa grazie per questa storia grazie per tutto e complimenti e complimenti perché meritate meritereste di più da tutti i punti di vista compreso quello economico salariale perché ricordiamo che gli infermieri italiani hanno gli stipendi più bassi in Europa questa storia ci aiuta anche insomma a raccontare che forse meriterebbero qualcosa in più al di là del supporto tecnologico perché la tecnologia è un mezzo ma dietro c'era una persona come Elisa che guidava quello che doveva fare che guidava una persona in stato emotivo ovviamente imbarazzante possiamo immaginare che stava partorendo il proprio figlio con la propria moglie quindi insomma è una situazione terrificante per certi versi che poi si è trasformata in una cosa molto bella grazie Elisa grazie Elisa Nava grazie al 118 agli infermieri di Bologna grazie ancora grazie che ci hanno fornito tra l'altro tutto il materiale video Flagmi si chiama questa piattaforma mi raccomando insomma utilizziamola portiamola anche nelle altre regioni intanto noi ci prendiamo due minuti di respiro pubblicitario due contati torniamo perché c'è il cinema bene torniamo a parlare di Trump e Capitol Hill però attenzione adesso non ci ripetiamo ovviamente non parliamo più di Trump la politica Twitter il tema sarà i film che hanno previsto tutto questo ma quando diciamo hanno previsto vi accorgerete che sono cose incredibili cose impressionanti alcuni lo fanno ovviamente in maniera un po' estrema simbolica altri nel dettaglio a tra poco ma Grazie a tutti.